Ciao a tutti, sono Marco Capretti e sono qui al Puff di Lando Fiorini, Tempio Storico del Cabaret Romano. Io volevo intanto salutare tutti i teleascoltatori di CIMAG TV. Vi invito sempre a seguire il CIMAG Magazine, se dice Magazine, se dice? Io spero di averlo detto bene perché in inglese non sono proprio Sganoway. Però, però, Magazine secondo me si può fare. È una rivista bellissima, se non l'altro perché ci stanno anche delle mie foto vestite, perché se ce l'hanno dovuto sarebbe stata Caccia al Tesoro Magazine. E a parte gli scherzi, stare qui per me al Puff è stato un grande onore, lo spettacolo è appena terminato, c'era la sala completamente piena, è stato uno spettacolo bellissimo. Ci sono delle clip che tra un po' vedrete, dove si ride, la rotta di collo, speriamo che hanno messo quelle più fighe perché mettono quelle che non fanno ride, anche perché non ci sono state. Quindi, a prescindere da questo, io vi mando un grande abbraccio, vi aspetto tutti i martedì su Rai 2 per Made in Sud. La falange romana è fatta da Capretti, quindi pensate come stiamo messi brutti, però ci sono. Quindi, diciamo in un contenitore dove si parla solamente o napoletano, o pugliese, o calabreso, o siciliano, ci sarà una voce fuori dal cuore, che è quella di uno di Prima Valle, che sono io. Quindi, seguitemi su Rai 2 e questa estate ci sarà la tournée, ci sarà l'Ombra del Colosseo, ci sarà la possibilità di stare ancora assieme. E quindi vi mando un grande abbraccio e vi auguro buona vita a tutti quanti. Ciao! Ciao!